C'erano una volta i meccanici della Messina Ambiente diventata adesso Messina Servizi, c'era una volta un'officina dove si riparavano i mezzi quasi in tempo reale, con difficoltà perché vetusti ma in tempo reale, adesso invece da alcuni mesi la manutenzione è affidata in appalto a una ditta esterna, la TEC, la stessa che ha vinto l'appalto per il noleggio dei mezzi per il servizio porta a porta della differenziata. I meccanici una volta che si guastano i mezzi se non è un orario di operazione ordinarie arrivano da fuori città e utilizzano l'officina della Messina Servizi, tutto questo provoca qualche problema secondo i sindacati. Michele Barresi della Will e Francesco Fucile della CGL denunciano il fatto che molto spesso negli ultimi giorni compattatori e mezzi piccoli adibiti alla raccolta restino fermi in autocentro per problemi di manutenzione ordinaria, da mesi affidata alla ditta esterna. I cumuli di spazzatura accanto ai cassonetti in alcune zone della città sono davvero visibili, basta dare un'occhiata al quartiere Giostra, ma questa rientra in parte, solo in parte, anche nel capitolo in civiltà dei cittadini, si depositano ad ogni ora del giorno e della notte i rifiuti. Rispondo il presidente della Messina Servizi, Pippo Lombardo, situazione già rientrata, i mezzi adesso sono efficienti, Lombardo annuncia, stiamo partendo con la differenziata, si inizia d'assunto.